Chiamate seriali alla sala operativa dell'1-1-2. Ambulanza prontamente inviata all'indirizzo indicato, ma nessuno in realtà sta male. Succede a Verola Nuova, nella bassa brisciana, dove solo in questo weekend, per ben 5 volte a distanza ravvicinata, i mezzi del gruppo verolese e volontari del soccorso sono stati allertati senza un reale motivo tra l'incredulità di coloro che si sono visti gli uomini in tutta arancio suonare il campanello, arrivati a sirene spiegate. Uno scherzo di cattivo gusto che si sta verificando principalmente nella zona della stazione ferroviaria che rischia di arrecare danno alla popolazione in caso di reale necessità sanitaria. Anche se fossero 50 chiamate al giorno sempre fatte nella medesima zona, se in queste chiamate ce ne fosse anche solo una che effettivamente si tratta di un'emergenza vera e propria, non possiamo rischiare che a questa chiamata di soccorso nessuno vada a rispondere. Quindi nel momento in cui viene attivato dalla nostra sala operativa, dall'1-1-2, noi abbiamo l'obbligo di intervenire. Verificato che effettivamente non c'è bisogno del nostro intervento, allora la squadra, segnalata questa situazione alla centrale, rientra poi in sede di nuovo operativa. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per cercare di localizzare il cellulare da cui partono le chiamate fasulle, ma nel frattempo condividiamo questo appello. Le chiamate sono tutte registrate da quello che si è sentito, ripeto, non direttamente da noi, perché non viene gestito da noi questa fase del soccorso, ma dagli enti preposti. Sembrerebbe si tratti di una bambina. L'appello che noi lanciamo ai genitori è non lasciare i cellulari, anche senza la scheda SIM, la chiamata in numeri d'emergenza all'1-1-2 parte comunque. Quindi spesso, purtroppo, succede che vengono dati i cellulari in mano ai bambini, un po' per gioco, un po' per, diciamo così, dargli un'alternativa, perché magari fanno i capricci. Quindi, purtroppo, da questi apparecchi la chiamata parte comunque. Se proprio dobbiamo utilizzare questo espediente, togliamo anche la batteria, in modo che non è proprio possibile far partire questo tipo di chiamate.